e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti vi invito ad iscrivervi a questo canale se non siete già iscritti condividetelo condividete questo video con tutti i tifosi della fiorentina che conoscete seguite viola press che vi dà info notizie e aggiornamenti sulla fiorentina seguite sempre forza viola che vi dà memistica vi offre memistica infografica di livello sulla fiorentina va bene e saluto anche il buon giulia saluto il bigio che mi fomenta di quella pagina va bene un caro saluto ragazzi seguitemi su alessandro catto 91 e su twitter che vi assicuro non ve ne pentirete allora io quest'oggi pomeriggio ho detto me ne resto tranquillo faccio un pisolo me ne sto tranquillo con lei ma mettimi ti ai elevi col play invece mi devono venire a rompere i coglioni con notizie cose gente che va in panico e su sari allora io ho sentito il fomento e la responsabilità verso la mia comunità e ho detto state sereni una bella tisanina alla valeriana e arrivo io non vi inerpicate non vi inalberate ragazzi sento forte la responsabilità attenzione attenzione e vado io di derapata sulla questione oggi pomeriggio e parlo io della questione di sarri in questi giorni quattro tutto state sintonizzati perché domani facciamo una bella ragionata sul ruolo il futuro di brandelli perché sento cose che avvocato mi inerpico e mi inalbero io verso la fine settimana facciamo un video col bepi su udinese verona e venezia per abbonati base poi l'udinese ci giochiamo contro quindi ve lo consiglio e farò anche un video su anti contiani e filo contiani per quel che riguarda l'inter quindi piatto ricco micifico ma veniamo alla questione sarri perché che cosa è successo stamane stamane ci è arrivata tra capo e collo questa notizia qui riportata se non sbaglio dal corriere fiorentino secondo cui ieri sera ci sarebbe stata una cena tra pradè e barone assieme a sarri per discutere di un possibile approdo dell'allenatore toscano alla fiorentina notizia che è stata poi smentita dalla società questa mattina dicendo che sono cose infondate che non è assolutamente vero quello che è venuto fuori allora io volevo dire la mia in merito allora io devo dire che tendo a fidarmi della società e questo è un refrain che vi ho sempre fatto presente ve l'ho detto anche quest'estate quando arrivò commisso e commisso disse guardate che non sono qui per spendere soldi e sovrasoldi su giocatori si parlava già all'epoca di torreira depolvi disse guarda che se dice così c'è di che fidarsi quando pradè in conferenza stampa disse vogliamo dare fiducia al nostro parco attaccanti c'era chi diceva no sono cose di circostanza lo dice per non dire poi poi in realtà arriva pionte che arriva mili che arriva tizio caio quindi se no fidatevi che alla fine andrà così ed è andata così e io anche qui tendo a fidarmi di quelle che sono le uscite della della società anche qui ogni volta c'è sto refrain che sono smentite di circostanza cioè seguendo il refrain delle smentite di circostanza allora è vero tutto ed è vero il contrario di tutto si può dire la qualunque si può dire si può dire la qualunque poi è altrettanto vero che a volte ci sono delle cose che vengono smentite ad hoc e via discorrendo ma non è che tutto non è che tutte le smentite sono false anzi vi ripeto se uno guarda alla storia recente della dichiarazionistica della della fiorentina spesso sono più vere le smentite che non le che non le ricostruzioni a castello fatte dalla stampa che dice siano smentito ma è una cosa non vera poi vi pongo anche un ulteriore interrogativo al di là della difficoltà magari della trattativa stessa per arrivare a sarri che comunque un allenatore di un certo livello che è un allenatore che può anche non avere un'urgenza nell'immediato ad accettare un'offerta perché presumibilmente ci possono anche essere altre squadre su di lui si possono aprire tanti scenari ci possono essere panchine che cambiano anche ad alto livello e via discorrendo però vi pongo un interrogativo che poi è quello che più mi perplime tra virgolette a parte che a parte che io dubito che certe decisioni vengano prese in assenza di commisso o meglio che ci si muova così presto quando si sa che commisso da sue parole a marzo deve ritornare e probabilmente certe cose per comodità per una situazione di convenienza se certe cose vanno fatte a messo non concesso che 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 siano e saranno fatte penso sarebbe più probabile vederle fatte vedi gli incontri vedi queste cose qui a commisso presente a commisso presente a commisso giudicante e via discorrendo quindi mi sembra un po presto ad oggi come tempistica ma poi vi faccio riflettere su una cosa se a questo incontro presunto partecipano barone e pradè significa che barone e pradè anche la prossima stagione saranno deputati a rappresentare l'area tecnica significa che non ci sarà del restyling dirigenziale significa praticamente che commisso li ha già confermati perché se loro due si occupano tra virgolette di andare a scegliere già il nuovo allenatore cioè non penso che lo facciano dicendo intanto me ne occupo io e poi se ne occuperà il nuovo ds nuovo direttore generale ammesso non concesso che saranno cambiati quindi due sono le strade o restano tutti e due e arriva sarri oppure la vedo dura ripeto che se anche loro sono soprattutto il ds sono sotto esame tra virgolette o vanno un attimo ricablati si occupano si occupino di andare a scegliere l'allenatore di parlarci quindi non mi tornano tanto le tempistiche soprattutto inerenti al discorso ritorno di commisso che sapete com'è è uno che deve sempre in genere essere informato che deve essere presente che deve decidere lui e via discorrendo no non mi torna il fatto che se ne occupino loro già da subito a meno che vi ripeto non si sia già deciso di confermarli ma questa è una scelta su cui io per esempio non concorderei sulla quale aspetterei mi sembra una buttada poi io vi dico faccio sempre fatica a credere a queste notizie qui che vengono fuori io per esempio vi dico vi continuo a dire che non credo neanche a quella a quella ricostruzione che ormai viene data per scontata sul fatto che si era cercato iuric che si aveva l'accordo con io ancora non ci credo per esempio quella cosa lì non credo tanto neanche anzi minimamente al fatto che sarri fosse stato contattato a novembre prima di Prandelli io credo che le decisioni inerenti l'allenatoristica della Fiorentina siano state molto chiare e lineari semplicemente Iachini partendo da lui aveva fatto una aveva ottenuto una salvezza che piacque alla società specialmente penso nella figura di commisso ma anche con l'accordo come del resto ha sempre detto di Pradè e Barone e si decise di confermarlo cosa che vi anticipai anche con qualche mese di precedenza che sarebbe andato così perché le inerzie erano chiare quando Iachini a novembre iniziò a balbettare tra virgolette a livello di risultatistica sospinti anche dalle pressioni della piazza della stampa e via dicendo si decise di cambiare ma non credo al discorso che ci fu il casting col Sari e via dicendo semplicemente c'era Prandelli libero e come figura a livello di stipendio a livello di accessibilità a livello di semplicità tra virgolette nel farlo arrivare di presentabilità della scelta perché era una figura che evocava piaceri che evocava dolci ricordi se andati molto semplicemente su di lui che era anche contento diciamo di offrirsi o di poter allenare la Fiorentina ad oggi se vi devo dire ad oggi io la situazione leggo un sacco di nomi perché anche per esempio voi oggi leggete di Sari ma su altre testate a stretto giro di posta escono i nomi nuovamente di Gattuso escono i nomi di Filippo Inzaghi addirittura adesso di Davide Nicola ho letto quindi è tutto un flottante a mio avviso dove bisogna sempre mantenere la bussola dritta e io credo che a livello di tempistica sia molto presto ad oggi per parlare di Sari, per parlare di Tizio e di Caio e credo che quantomeno bisognerà aspettare il ritorno di commisso e io continuo anche a dirvi che non sono così sicuro che si sia già deciso di accantonare Prandelli è troppo presto, non sono così convinto della cosa non mi stupirei se alla fine rimanesse Prandelli quindi io a questa cosa di Sari onestamente non ci credo molto non ci credo molto a questa cosa di Sari questa è la mia opinione ditemi cosa ne pensate voi un caro saluto